Ciao, ciao creatore, scusami se ti darai il mio respiro ma sto usando un microfono nuovo e non ho l'antivento proprio perché di questo microfono nuovo non ce l'ho l'antivento e lo devo procurare però l'altro più vecchio è morto proprio se non si raccette più e quindi vengono qua a provare questo senza altrettio spero che sia tutto ok, allora terrò a distante e speriamo che l'avessi ok, va bene, andiamo, procediamo oggi vediamo il catalogo dell'ITEL Alpenfest sopra offerte e valide dal 2502 al 303 ho visto che non ce ne sono tantissime quindi casomai dopo subiamo un po' di catalogo un sacco, cioè te piace solo la carta, te piace solo la carta, tu hai un sacco eccoci qua Alpenfest specialità alpile ok, caneteli a 2,49 euro, poi gli occhietti di patate a 1,19 euro, cabanus si dice così, salmi carli sui napoli catti, credo che questo video verrà un intelligible che ci balla, scusate, scusate, scusate che tu non si sento già nelle orecchie con il respiro spero che non sia troppo disturbante, se non hai provato all'argomento parli ok, non è davvero dio, non si sento vedi, un PR venir, se non ti sento bene per scusate, google don'ts lover, qui vai bento, io credo che tu non che sei mai punto di errore in quanto riguarda un piaccio che stacca che tu non ti sentoеко A, B, C, non so come è la canna, non mi ricordo più l'ho fatto, ma un anno, però superiore, vabbè, ok, ma non si era capito cosa avevo fatto, no, ma da scena, i cibi, no, sicuramente non si lancia così. Vabbè, lasciate stare, i ravioli svevi, questo so dire, e a 1,29 euro, non ho capito cosa non vengono, ma mi fanno voglia, perché so dire, no, ma tutte parole che non so dire, però si prege la descrizione che è preparazione a base di carne, verso gusti, a 1,99 euro. Poi abbiamo qua, il burger, questo so di formaggio, basta bene, sempre sentito giusto, il classico, il cerro, delicato e cremoso, io prenderei delicato e cremoso. A, A, 1,49 euro. Poi, spec, alto A, di C, D, C, D, C, A, 1,39 euro. Poi, spec. E, vec,PE, che sperità pandemia, e sa, è qui, io utilizavo parlo, il corresponding impegno, fra l'onore merito. Poi, certamente vedeva 10 euro. Poi, ad ora, pu cat, qualche volta, gl班. Poi, sign Quindi volevo, e quindi volevo, allora, sfar, falder, eccetera, eccetera, proietto crudo, della foresta nera, ubicato, 249, patatine aromatizzate, a 0,99, cheese, e l'altro cos'è? Non ne ho idea, ma fanno voglia, poi, senabe dolce, a 0,49, cotolette di carne suina, a 4,49, sacco di patate di piene, con pepino di spinaci, mozzarella, con formaggio fresco, e erbe aromatiche, a 0,99, a 0,99, sticchi, scloponi, fanno costi, ovviamente più costosi, 5,99, vabbè, se mi metteremo la verba, li prendo, fanno troppo voglia, no, non mi piace anche un po' la carne, no? Crocchetti di formaggio, e metà, o tre argolini di formaggio, per il consenso di, perché voglio entrambi, dove, a 19, vorrei, lo so che non si diceva, di vorrei, birra, a 0,79, e poi c'è questa birra, scusa, a 0,79, e poi, a 20, ma non si diceva, a 2,59, a 0,79, a 2,59, a 2,59, a 0,99, a 0,99, a 0,99, 1,69 euro sapete di prosciutto cotto in forma a legna specialità austriale carri a rosto freddo, soprattutto a base di carne sullina 1,59 euro salsiccia spalmabile a base di carne di fegato di sullina è strano ma mi fa voglia 0,79 specialità spalmabile con carne e fegato sullina 0,89 e a me piace il fegato pom salsiccia bianca la pavarese beh beh, io non ciò che la lingua mi è piaciuta finì cosa è la petto dolce 1,49 euro salsiccia a cadena 1,99 euro salsiccia applicata alla birra wow, questo è 1,49 euro salsiccia alla birra che costa 1,49 euro dei brexiner diet si deve cercare una smiglia di carta classica con peperucine piccante molto 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 la prima volta tutto tutta roba di carne quindi ai visitariani vado a retro per vedere questo video se state male soffrite tantissimo salami di carne sullina 2,29 euro versi gusti 2,29 euro confetue avvi alla propria del petto diversi gusti 1,79 euro non riesco a vedere di cosa sono comunque acquavite di prugna 9,99 euro sarà tutto acqua cheesecake dolci di pasta frolla con quark avevo provato questo per altre euro palli di mozart con cioccolato fondente e un euro buono con quark ci sono topralini di cioccolato cioccolati il dolci di pasta pronta e allora c'è questo con le prugne vedo questo il limone preto giallo lo riesco a leggere da qua e questo alineo e questo alineo di ciliegie 3,99 euro ho già detto cosa però è diversi costi squisiti costi diversi costi squisiti così ok poi la torta Sucker il classico a 4,49 euro con la confettura di appiccocchialità e purtroppo 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 abbiamo finito qua la parte dell'offerta che ci interessava maggiormente abbiamo per una casa coordinata in città gioco di sol e un lente di incrandimento da tavolo con le soldi Ma cosa serve? Sicuramente a qualcuno che dirà se l'hanno fatto, penso. Hightech, addirittura, tra l'unico il dico, il vibraio, il vibraio di montanaco, l'unico il zappi, sempre in un dico, il cattolico, ci sono batterie a bottone, 6 pezzi, 9 batterie ricaricabili, questo mi potrebbe servire per il micro, intanto che minimo, c'è un sacco di batterie, adattatore USB per auto, alimentatore USB, batteria esterna, power bank, A9R99, alto parlante Bluetooth, scanner per negativi e diapositive, un letto, tutto, questo ce l'avevo, ce l'avevo, c'è nel senso di un lavoro più libero, credo ce l'avevo, radio, con display a colori, scusa, e andiamo su cose veramente importanti, ovvero le piante che ci danno ossigeno, dovete apprezzare le piante, altro che, ecco, per lì, medie, medicina, prime, camellia, questo non lo conosco, che bello, che è, pulpi di begone, crisantenne, mi piacciono un sacco a crisantenne, anche se li mettono al cimitario, ma sono belli, cioè, wow, ma che belli, le fiori del pensiero, che bello questo, questo, G-Seg, che bello anche in questi vasetti, lo stai vedendo qua, quando li vuoi, ok, ma non posso, perché, se no, distrugge tutto, porta a letto la qualità, no, non è un no, è tipo, sai, vabbè, se non si è storia, cos'è, 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 letto pieghe님, per ospite, wow, no, marco delosso, questo no, no, perché lì maloretto, grazie, tanto così, vabbè, ok, poi, messaggi sublimi, anche nei video, so che sono un capione, aria bimbi, produttore di stelle per bambini, ma è bellissimo, fa della rana, no bimbi non è buona, questo però è lo stesso, noi in realtà abbiamo già produttore di stelle, quindi mi serve quello, è proprio su Banggood, tutto per il fai da te, macchine affilatrici, 7 punte per trapano, questo potrebbe essere il mio papo, trapano, avvitatore, ricarica, perché ce l'ha più in giallo, oddio non devo sospirare, poi stazione di salda tutta, così non ci interessano, intanto questo è un video, mi inquadrono di più le ragazze, però non è detto, non ce ne rialziamo ovviamente, sono per il non binarismo, quindi, però noi in realtà ho senza scusi, perché noi ce ne piacciamo queste cose, ecco, poi, ecco la presa multiple, però non tutte queste cose, non deve bene anche solo quattro, ne devo prendere una comunque, perché quando accendo videocamera, luce, un'altra cosa, in particolare, ho bisogno di camere piccoli, anche noi voglio quella con gli interruttori, che praticamente consuma l'energia per il tavolo e spegne, spegne quelle che mi utilizzi, ma c'è anche l'era, poi sto facendo questa, tipo, visione, che non è un'altra cosa, anche se non mi interessa questa cosa, portate che ti rilassi da tormenti, lavorare conti e t-shirt da uomo, due pezzi, anche da donna, c'è, anche da deciso, arreda il punto della tua casa, cornice, portafoto, sette mesi, sei ritornandoso il discorso delle t-shirt da uomo, secondo me invece, invece di scrivere t-shirt da uomo, perché alla fine quello che distingue la t-shirt da uomo, quella che distingue la t-shirt da donna, è che quella da uomo è dritta e quella da donna è sfiancata, quindi io, in me, l'idea è che l'anno unico, scriverei non t-shirt uomo, io metterei il t-shirt uso, t-shirt e basta, e in quelle altre metterei il t-shirt sfiancata, perché se un ragazzo l'amore è sfiancata, perché è un ragazzo, ma per me, siccome lo so, io ti piacciono quelle sfiancate, che per esempio a me ti piacciono, perché mi fanno sentire a disagio i condimenti di te, e dice, non mi piacciono su di me le persone più dritte, sono anche più comode, e questo è quello che vuol dire, la persona non dovrebbero scrivere t-shirt da uomo, due o tre t-shirt poste, se un ragazzo l'amore è sfiancata, io l'amore è sfiancata, appunto, me che è da donna, cioè, siamo in 2019, accidenti, ma come stiamo a distingue le t-shirt uomo e a donna, ma per favore, che o no, cosa ne pensi? vorrei sapere ad un'opinione, non ricordo, sette mesi, sono a cubo, tre pezzi, otto euro, montano, carta da parati e fotografica, che bella, che bella, montano a suonare le t Triple Back, 268 x 154 cm acazzo, 902 x 127 cm acazzo, sempre guardato. C'è bisogno di un nome di piacere sempre, con la pepe pescolare inclusa, 200 grammi. Poi, lampada notturna led, con led bianco blu, 10 minuti di esercizio, 2, 3, 0, 2, 4, 0, 3, 5, 0, 3, 7, protester. Piquement it, lettilos, sorvete di led, 0, 4, 8, 1,9, piaccia, 1,8, 3, la quadina led con 100ccaanze, 1,9, 2, 7, 2, 7, 2, 8, 6, 2, 8, 6, lm i 2 7 7 2 2 4 2 6 lm i 2 7 5 5 5 6 7 6 lm i 4 3 5 2 2 5 7 lm i 4 4 4 2 2 1 3 2 0 lm 4 99 dimmi che non ti è piaciuto fa e ti mi piace 3 lampadina monticolore a led 5,99 bella costata lampada led sotto pensile con sensore di movimento ad infrarossi a 2,99 abbiamo terminato questo corso per il weekend vertevalite da sabato 2 a domenica 3 marzo 3 marzo di dinarcia il cannibale che viene a trovarmi fatelo sapere in dialetto su instagram grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo con il prossimo video domenica e martedì e giovedì domenica e martedì giovedì domenica e martedì giovedì domenica e martedì giovedì domenica 3 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 15 15